Ok, questo è un riscaldamento per la corsa. Inizieremo utilizzando l'elastico, da qui potremo eseguire tutta una serie di esercizi che sommatici diranno un buon riscaldamento prima di iniziare la nostra sessione di running. Il primo esercizio che vado a proporvi sono delle aperture laterali. Possiamo tenere comunque un numero compreso tra 3 e 5, eseguirle sia da un lato che dall'altro, è uguale. Delle aperture posteriori, quindi andremo a portare indietro la gamba, mentre invece richiameremo sempre con le braccia il gesto dello schema crociato. Delle aperture laterali di entrambe le gambe. Un'alternativa in monopodalica, un'apertura monolaterale cercando di reclutare molto bene il gluteo. Finiti questi, togliete il vostro elastico. Da qui possiamo eseguire tutta una serie di corsa con le ginocchia alte, oppure dei richiami del tallone verso il gluteo. Cercate di avere sia delle fasi di forza che delle fasi dinamiche.